Nuovo stile per la team 5 squadre, 5 beat X-Ring Football Arce la palla, si gioca spalla a spalla Il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla Attacchi, contraattacchi, con la volontà di ferro Sfide nella street, mille tricks sul più bello Fila agilità in tutti i sensi Notte e giorno tra palazzi densi Breakdance e parkour in un pallone X-Ring Football, pronti per l'azione X-Ring Football, gioca a X-Ring Football, pronti Siamo noi lì, siamo qui, dai giochiamo a X-Ring Football Quanto sono arrivata! Io ho contato un minuto e mezzo più o meno Non è possibile, dov'è Joelle? È sempre in ritardo Aveva un provino per un concerto Ah sì? Con il suo gruppo rock? No, per suonare la tromba in un'orchestra Non capirò mai dove trova il tempo per fare tutto Perché non lo aspettiamo all'anfiteatro? Venite? Arrivo! Aspettatemi, sto per battere il mio record E Greg mi stava cronometrando Mi dispiace Luna! Forza, frigati! Aspetta Luna, arriviamo! Stiamo a tenere ancora dieci secondi Cinque, quattro, tre, due... Oh no! Sei già qui! Non è possibile, è troppo presto Joelle non può essere qui Questo è solo un miraggio Smettila, non sei simpatica Ma, Joelle, che è successo? Niente Meno male, non oso immaginare che faccia avresti, altrimenti Beh, com'è andato il tuo provino? Hanno preso un altro ragazzo E perché? Il problema è chi hanno scelto Ho passato più di un mese a provare tutti i giorni con Mario E alla fine hanno scelto lui Mario? Quello con cui facevi chitarra? Pensano che sei più bravo di me, anche se suona soltanto da due mesi Ma non ha alcun senso! Sì, è davvero ingiusto Visto che non era riuscita a studiare un pezzo intero Durante il provino è improvvisato E lo hanno trovato molto creativo Per questo lo hanno scelto Perché hanno pensato che fosse più bravo di me Capisco la tua delusione Sta tranquillo Faremo una super partita e ti dimenticherai tutto Speriamo Infatti, sarà meglio andare Altrimenti faremo davvero tardi Che fate? Venite? Andiamo, Joelle! Sì, sì, arrivo Ehi, guarda qui Guardate qua! Che lo sai fare? Walter, sei capace! Che classe! Guardate! Sono bravo, no? Ora ne ho abbastanza! Puoi giocare? Ma come fa, Walter? E sapete, ragazze? Questo non è niente Posso fare di meglio? Ma sentilo! Che sbruffone! Non conosci il significato della parola modestia, non è vero? Deve essere davvero noioso giocare con te Siete solo invidiosi Walter, non te ne andare! Resta qui! Resta con noi! Allora, com'è andato il provino? Samu! Che c'è? Mi interesso dei miei amici Non avevi un provino? Sì, sì Che ho detto di male? Non pensavo di offenderlo Te lo spieghiamo più tardi Bene, ragazzi Vi ricordo che saranno i Magix A decidere la sfida che si giocherà domani Walter, ti ascoltiamo Allora, per questa sfida Abbiamo deciso che ogni squadra Dovrà mettere in porta due portieri Che razza di sfida è questa? Calmati, Joelle La team? Accettate la sfida? Sì, nessun problema Perché scegliere questa sfida? Perché sono furbi Dal momento che sono tutti attaccanti Sanno che sono meno bravi in porta Con due portieri Probabilmente pensano che non prenderanno troppi gol Lo vedremo E su quale campo avete scelto di giocare? L'intero piazzale Buon allenamento, allora Ci vediamo domani, ragazzi Non abbiamo bisogno di allenarci Vi batteremo Sarà divertente questa sfida Devo dividere la mia porta Tu la trovi divertente? Io no Non ho mai segnato con due portieri insieme Sarà sicuramente più difficile Ma l'idea mi piace molto Comunque, divertente o no Non abbiamo scelta Dobbiamo trovare il secondo portiere Ma chi? Beh, Greg Sicuramente no Abbiamo troppo bisogno di te in attacco Ok, però nemmeno Ines Visto il livello degli sfidanti Abbiamo bisogno dei suoi scatti Posso farlo io? No Tu sei l'unico che può ostacolare Walter in campo E poi con le tue acrobazie Sarai molto più utile in attacco E allora non resta che Luna Luna in porta È una super idea Sì, è vero Sarete fortissimi tu e Joela insieme Cosa? Non potete decidere così Secondo me dovremmo fare una prova Vi metterete in porta una alla volta In questo modo vedremo chi para più gol Non mi sembra una cattiva idea Non servirà a niente Luna in porta è la soluzione più logica Non capisco perché Facciamo una prova e vediamo Perderemmo tempo Perché ti ostini così? Che ti prende? Ecco, arriva Tag Chiediamo a lui che cosa ne pensa Ciao, Latim Beh, in effetti La scelta non è facile Avete tutti un ruolo molto importante nella squadra E chiunque di voi giochi in porta domani È chiaro che lascerà un vuoto in campo E cosa proponi allora? Trovo che l'idea di Joelle non sia male Ecco, avete visto? Ciascuno di voi si metterà in porta E così potremo vedere chi di voi Se la cava meglio come portiere Ricordate però che il portiere sono io Vale solo per questa sfida Ma certo, Joelle Qui nessuno vuole rubarti il posto in squadra È solamente per domani Forza, adesso andiamo Ci sarà da divertirsi Speriamo Iniziamo, ragazzi Io tiro e voi cercate di parare Samu, sei pronto? Quando vuoi, tira pure Va bene, iniziamo Sto volendo Mancata Ora lo prendo, oh no Qual è il tentativo? Tocca a me Questa la paro Ben fatto Vai, Greg Tocca a te Sono pronto Vai, Luna Fagli vedere chi sei Sì, brava, Luna Ce l'ha fatto No, se la cava bene Faccio l'ultimo tiro Attenzione, questo è il mio corpo speciale Non ci posso credere È stata solo fortunata A questo punto direi che siamo tutti d'accordo Luna, il secondo portiere, sarai tu Molto bene Sei stata incredibile Lo sapevo Grazie mille, ragazzi Sei stata davvero bravissima Tieni, Luna Ho preso questi guanti per te Non sono nuovissimi Ma andranno bene Provali Direi che vanno bene Tremate Arrivata Luna Il terrore dei Stavo per cadere Però non sono pratici per allacciarsi le scarpe Gni, 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 gni Allora, tornando alla partita Le occasioni di gol saranno rare Con due portiere in porta Greg e Samu dovrete essere super precisi Quando tirerete Tranquillo, conta su di noi Ines, tu sarai da sola in difesa Quindi dovrai correre velocemente Non c'è problema, sono abituata Il ruolo più importante è quello di Joelle e di Luna Dovrete comunicare bene per non ostacolarvi a vicenda È chiaro? Di sicuro mi intralcerà Visto che di solito c'è solo un portiere in porta E quello sono io È davvero stupida questa sfida Non so proprio come faremo È per questo che dobbiamo allenarci E vedrai Andrà tutto bene, Joelle In due in porta È una cosa impossibile E in più contro i Magix Non è impossibile Nessuno dei Magix è abituato a giocare in porta Mentre tu sei il portiere E poi Luna è piuttosto brava Sì, sì, sono molto brava Me lo dicono sempre tutti Ah sì, non ne sarei così sicuro Forza, andiamo ad allenarci Ma non sono per niente contento Sono pronto Brava, Emi Fazza, Pablo Tira una cannonata Sì Wow Sono bravissimi in porta Mi fanno quasi paura State tranquille Riusciremo a batterli senza alcun problema Samu ha ragione Bisogna pensare positivo Ricordatelo sempre Dunque Greg, Ines, Samu Per oggi voglio lavorare con Joelle e Luna Voi invece allenatevi da soli D'accordo Ci ci alleneremo a tirare Andiamo Joelle e Luna Mettetevi ognuno su un lato della porta E chi si mette a destra? E chi è a sinistra? Vediamo Joelle è un portiere E gioca bene da entrambi i lati Quindi a te l'onore di scegliere Esatto, io so giocare Se è così sto a destra preferisco No, a sinistra In effetti mi sa che mi sento più a mio agio dall'altra parte Ti dispiace? Allora, vuoi deciderti? A sinistra No, a destra Ah, no, a sinistra Non ci posso credere Stai tranquilla, Luna Te la caverai In campo so bene come muovermi Ma importa Non so davvero come fare Sono d'accordo con te Ma che ti prende, Joelle? Niente Ma se vogliamo allenarci Dobbiamo iniziare, no? Non lo dico per me Ma soprattutto per Luna Certo Su, rilassati Andrà tutto benissimo E sta tranquilla Ti aiuteremo noi Greg, inizia tu a tirare Sì È tua, Luna Ma Ines Lascia, guarda io Avanza, sei troppo vicina alla linea Va bene, d'accordo Samu, a te Attenta al pallonetto Ma come non vale? Sparata Per fortuna ci sono io Fermi Joelle, il tuo compito non è dare ordini a Luna Ma è quello di insegnarle a giocare in porta Ma io faccio così per aiutarla Non è colpa mia se lei non è capace Sì, ma dalle il tempo di abituarsi E tu concentrati sul tuo gioco Provate a cambiare lato adesso Ines a te Sto io a destra Aia La stavo parlando io Scusami, non l'ho fatto apposta Bocca a me Arriva Non è possibile, Luna Mi dispiace, pensavo di farcela Attenzione Ehi, spostati Così non vedo niente Scusa, Joelle Credevo... Adesso basta Non possiamo continuare così Mi intralcio ogni volta Ascolta, da adesso in poi E ognuno resta nella sua metà porta Ok? Ma... Ma io non so come fare Smettila, Joelle Che ti prende? Sì, sei troppo duro con lei Calmatevi adesso L'idea di Joelle può funzionare Visto Ciascuno di voi difenderà la sua metà di porta Esatto Così sarà più facile Se il pallone va dalla parte di Luna Lo para lei E dall'altra parte Lo para Joelle Faremo una prova Così capirete la grandezza della vostra metà porta Io non ho problemi Conosco la grandezza della mia porta Lo so, Joelle Ma l'esercizio è importante anche per te Forza Iniziamo con Luna Mettetevi in porta Ok, va bene Un po' di entusiasmo Ragazzi, dobbiamo aiutare Luna Non è affatto sicura Basterà tirare con meno forza Vedrete, così non si spaventerà Va bene Buona idea Forza, Greg Iniziamo Preparati, Luna Sì, brava! Ah, ben fatto, Luna Ora tocca a me Attenzione Presa Brava, Luna Così, vai Ma... Farai questa se ci riesci Super parata Che stile, Luna Ma com'è possibile? Tocca a me Attenzione Lo sapete Siete autorizzati a fare anche dei tiri veri Sì, volevamo iniziare E poi aumentare la forza Ok, Luna, va bene Vai, Joelle Ora tocca a te Forza, Joelle Ora vi faccio vedere come gioca un vero portiere Bene, Joelle Tiriamo come al solito Parata Sì, Ines Tocca a me Niente male Siete stati bravi Ora andiamo nella porta più grande Andiamo, Joelle Io paro delle vere cannonate E nessuno dice niente Luna invece para tre tiri finti E tutti la clamano Fantastico Greg, inizia tu Resta nella tua metà, Joelle Non l'ho fatto apposta È solo l'abitudine Scusate Sì, a te, Samu Ma perché sta giocando in questo modo? Io credo di saperlo Joelle pensa che riteniamo Luna migliore di lui Joelle, qual è il tuo problema? Luna non sarebbe mai riuscita a parare questo tiro Tu che ne sai? Perché io sono abituata a leggere la traiettoria del pallone È roba da portieri Perché secondo te gli altri giocatori in campo Non sanno leggere la traiettoria Sicuramente meno bene dei portieri Ma il vero problema non è questo Non è che chiunque può diventare un bravo portiere È solo perché si è allenato una volta Aspetta, e questo cosa vuol dire? Che io sarei chiunque? Ha ragione lei Sembra che tratti Luna come se fosse un avversario Ma ricordati che giocate insieme Ma le fate un sacco di complimenti come se fosse più brava di me Non l'abbiamo mai detto Invece bisogna riconoscere che lei ha avuto spirito di squadra Mentre tu no Cosa dici? Non è vero? Bene, fine primo tempo Calmatevi adesso So che in una squadra non è facile abituarsi ai cambiamenti Ma l'avete già fatto in passato Mi rendo conto che voi due avete dovuto abituarvi a tante novità oggi Andrà meglio durante la partita Beh, preferisco abituarmi da solo Vado a casa Ciao Nunca Grazie a tutti